Alzo e tiro e questa volta è una palla incrociata alla grande da parte di Detti Fondelli Italia 8, Grecia 9 Cercato il falo da 5 metri, probabilmente indicazione di Sandro Campania perché tutte e due le bocche da fuoco, sia Francesco Di Fulvio che Detti Fondelli hanno posizionati molto bene, hanno la ricerca del falo Far calare anche il battito dei tanti azzurri in acqua che hanno fatto su e giù rapidamente negli ultimi minuti